un aggiornamento rapidissimo si è manifestata un'altra gelata di importante calibro ed ecco che altri pomodori sono stati decimati soprattutto i verna che erano protetti da questo da quello che qualcuno annoverava essere un magico cartellino ecco vediamo che nonostante il suo potere insormontabile dopo quest'altra gelata anche altre piante sono morte ma ecco qui alcuni germogli pronti a risorgere si diciamo che è una bella strage una bella strage qui abbiamo invece un pomodoro bianco che sta sopravvivendo alla botta di gelo è una bella strage mi sa che qua è ora di fare un'altra semina visto come butta in tutto questo però ci tengo a osservare i pomodori di dandindondero che qualcuno qualcuno è sopravvissuto poca roba poca roba ben presto ben presto sarà tempo di fare un'altra semina e visto che sono qui colgo l'occasione per dire che queste paolonie che sono il frutto della gloria del disonore dell'anno scorso sono vive sono vive lo testimonia questa gemma e di conseguenza presto sarà tempo di fare un travaso mettendone ognuna in un proprio vasetto poi faremo una potatura tattica per poter gestire la chioma nel modo più naturale possibile questo è quanto questo è quanto volevo condividere oggi il gelo incide sulle nostre vite noi resistiamo noi riseminiamo bacetti ti voglio bene